Prendo tutti i giorni l'ascensore ed è sporca, di tutte le cose che fanno i cani, delle persone che sputano a terra, è molto sporca. Nessuno pulisce? No, sempre è sporca, l'aria condizionale non ne parliamo proprio, un calore immenso e si soffoca. Invece per quanto riguarda gli orari, lei che ne pensa? Quelli mattutini sono adeguati? Un poco prima perché ci sono persone anziane che escono più presto di noi, quello sarebbe iduale per questi ragazzi che vanno a scuola. Troppo tardi, alle 9. L'orario è un po' più elastico per permettere ai bambini comunque di prendere anche loro l'ascensore. Quindi servirebbe adeguarlo all'orario scolastico? Scolastico sì, tipo 8 del mattino, 7.30 fino alle 13.30, alle 14, insomma, orari che magari non devono percorrere tutte le scale. Come sono le condizioni dell'ascensore? Una schifezza. Perché? Perché non si respira, è sporca e puzza. Invece per quanto riguarda gli orari, secondo lei vanno bene? Invece delle 8 potrebbero fare anche le 9, perché anche i vecchiadelli adesso si ritirano le 9 a casa. Perché è poco sicura? Lei diceva prima che c'è un problema anche di sicurezza. Sì, quella trema pure tutto e tutto, non va bene così. Eppure è molto frequentata questa ascensore, la prendono tante persone. La prendo ed è comoda, è una cosa bella che hanno fatto attori, però ci deve stare chi la guarda, ci deve stare manutenzione, non la devono lasciare. C'è una guardia giurata? Sì, sì, ci sta sta giù. È comoda, la prima cosa. Eh, insomma, ti dico migene, non è che... Lascia desiderare. Un pochino. Io sono americana. Io stai qua, sono 2004. 2004. 20 anni. Sì, e poi andare in un gop. Ma non posso andare in un gop. Quindi va bene la scienza. Sì, va bene, va bene, sì. Sì, va bene.